I carabinieri di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Napoli su richiesta della Procura Generale nei confronti di due persone di 26 e 25 anni. Si tratta di Raffaele Gallo, figlio del boss del rione Penniniello di Torre Annunziata in provincia di Napoli e Vincenzo Falanga, conosciuto come Ogemello. Due settimane fa la condanna e ora la pena è stata certificata. Gallo Junior, già detenuto a regime del 41 bis, è stato condannato a 15 anni di carcere per tentato omicidio, mentre Falanga, il complice, dovrà scontare 13 anni. I due, la sera del 27 gennaio del 2017, tentarono di uccidere Salvatore Giovane, zio materno di Gallo, ma ridussero in fin di vita l'incensurato Vittorio Nappi, classe 97 che si trovava in sua compagnia. Il provvedimento emesso dalla Corte di Appello nell'ambito del secondo grado di giudizio scaturisce dalla bontà delle indagini condotte dai carabinieri Oplontini, che hanno raccolto gravi indizi nei confronti dei due arrestati grazie ad attività tecnica e analisi di immagini del sistema di videosorveglianza. I due entrarono in azione sparando diversi colpi d'arma da fuoco contro una Mercedes al bordo della quale c'era lo zio di Gallo e l'allora 19enne Vittorio Nappi rimasto gravemente ferito. Una vendetta trasversale per punire la madre colpevole di avere lasciato il padre potente capo clan e soprattutto di essersi legata sentimentalmente al nemico.